benvenute in questo video vi farò e vi mostro come posizionare 100 ciocche di capelli in modo migliore parleremo di metodo keratina le ciocche con keratina che sono applicati a caldo allora in questo metodo dura anche 56 mesi giustamente che se keratina è buona però per avere allungamento perfetto è molto importante come posizioniamo le ciocche sulla testa e internet si trovano tante foto orrendi quanto capelli sono troppo pochi sono mal posizionati o si vede attaccatura perché le ciocche sono troppo troppo spesse vicino la corona sulla testa o quando le ciocche sono troppo poche è un effetto triste veramente brutto anche qua posizionati male capelli o quando capelli sulla corona sono troppi come qua è un altro effetto bruttissimo invece allungamento con keratina dovrebbe essere così questo è il lavoro perfetto è giustamente per ottenere risultato così bisogna capire bisogna capire come posizionare le ciocche sulla testa allora vi farò vedere questa cosa su una testa di manichino che è senza capelli per spiegare più o meno come dobbiamo posizionare queste ciocche ho disegnato anche su questa testa la linea di capelli che è questa la linea di capelli eccola c'è anche un orecchio come potete vedere qua davanti sulla fronte ed altro lato orecchio così sarà più facile mostrarvi come bisogna fare allora prima cosa molto importante iniziamo sempre applicazione di extension da sotto altri capelli leghiamo iniziamo tutto da sotto e poi vi farò vedere sopra sulla corona come le mette delle ciocche si può applicare con le pinze più piccole allora iniziando da sotto bisogna ricordarsi di attaccare quando ce l'abbiamo linea di capelli questa non bisogna troppo basso attacarli sempre lasciare lì tipo 35 centimetri perché se attacchiamo capelli troppo basso la prima striscia di capelli appesantisce o ciò che possono cascare con capelli della nostra cliente direttamente o possono fare male anche sarà difficile fare la coda la treccia e qua sopra la testa non si applica niente o eventualmente ciò che molto piccole qua tipo ciò che divise in due ma questo vi mostro alla fine del video perché inizieremo da sotto un'altra cosa molto importante che i nostri capelli su ogni testa sono più forti non qua dove ce l'abbiamo la corona ma un po più sotto sono più forti e li possiamo attaccarli un po di più ecco in questa linea qua è specialmente dietro possiamo attaccarli un po di più perché la essendo forti non c'è questo pericolo che cascano o rappresentiscono troppo ok iniziamo la prima ciocca sempre iniziamo dalla metà della testa la prima mettiamo lì ricordiamoci sempre 35 centimetri dalla linea di capelli va prima ciocca che è quella questa prima linea delle ciocca ce l'ho in colore bianco e bastano attaccarli basta che li attacchiamo tre poi seconda linea delle ciocche avrà colore rosso allora sempre dalla metà va prima ciocca e immaginiamola come in mezzo tra queste due ciocche in bianco perché ecco in mezzo vedete perché così quando ci abbiamo già capelli attaccati fa un effetto tipo tutta fascia di capelli effetto naturale se invece sbagliamo purtroppo se uno magari non è simmetrico effetto non sarà così bello come dovrebbe essere e la nostra terza striscia con capelli è gialla vedete bene che la gialla è un po' più lunga della rossa la rossa un po' più lunga della bianca questa sezione è un po' più lunga è la sezione blu sempre più lunga della sezione gialla ma tutto sempre in perfetta simmetria e adesso ci stiamo già avvicinando a questo punto dove i capelli sono più forti e resistono di più allora lì possiamo attaccare così tanti vicinissimi come la striscia di capelli la sezione verde che possono essere veramente tanti che questo dà un effetto di infoltimento allungamento ma non appesantisce non è pericoloso attaccarli tanti in questo preciso posto poi la sezione rossa guardate è già un po' più alta però iniziamo a farla meno densa è un'altra sezione blu sopra la rossa ancora meno densa della rossa avete capito tutta densità si deve concentrare in questo punto preciso dove c'è sezione verde e sezione bianca giustamente qua in questo video vedete come si mette 100 ciocche più o meno ma mettendo di più possiamo fare meno capelli tra una sezione ad altra così fare più sezioni e poi un'altra sezione gialla vedete ancora meno densa di questa blu perché ci stiamo avvicinando già alla corona della testa che è questa e qua possiamo mettere le ciocche più fini e che io consiglio sempre dividere una ciocca di un grammo in due dividere a metà e qua queste cose queste ciocche a metà ho segnato con questo altro tipo di spilla così potete capire come bisogna fare vedete che è sempre tutto simetrico è sulla corona molto alto però queste ciocche così piccole non appesantiscono è il lato della testa sempre facciamo alla fine qua queste cose gialle vedete tre piene ciocche al lato però più alto ce l'abbiamo sempre ciocche divise in due qua ancora tre piene ciocche qua ci starà un'altra che attacco adesso perché dobbiamo vedere perché dipende anche dalla grandezza della testa quante ci stanno magari ci stanno un po di più magari un po di meno dipende sempre dalla testa del cliente dove attacchiamo questi extension e guardate qua così di lato già tutto riempito e volevo mostrarvi un'altra cosa quando per esempio qualcuno ha capelli molto corti quelli che arrivano fino al mento e vuole capelli lunghi tipo 50 centimetri giustamente lì bisogna mettere 160 170 ciocche 150 grammi però per evitare questo scalo che si vede tra i capelli del cliente che sono corti e capelli extension si può attaccare ancora un po più di questi capelli divisi a metà di queste ciocche superfine anche sulla corona e qua ho attaccato 9 piccole ciocche così guardate sulla corona molto alti ma come sono ciocche fini allora non appesantiscono 1 2 3 4 5 6 7 8 9 così sicuramente si mischieranno perfettamente capelli extension con capelli del cliente e effetto sarà super naturale strabello e se volete acquistare capelli naturali europei di altissima qualità con cheratina superforte vi invito a guardare il nostro negozio online www.hgherextensions.com alla fine del video potete vedere indirizzo del nostro negozio e se avete qualche domanda richiesta qualche dubbio di qualsiasi tipo potete sempre contattarci e alla fine del video vedete tutti i dati tutti i contatti anche contatto whatsapp se ti è piaciuto questo video metti mi piace e guarda il nostro canale che ci saranno ancora tantissimi video molto interessanti che riguardano allungamenti di capelli di vari tipi che si è piaciuto il nostro canale 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 che si è piaciuto il nostro canale